Buongiorno, sono Gabriele Antonini, sono un urologo e faccio parte dell'equip di Uomo 360. Nel nostro centro abbiamo la possibilità di trattare il deficit erettile maschile al 100% con dei risultati estremamente soddisfacenti per i nostri pazienti. Quali sono i pazienti che afferiscono al nostro centro? Non c'è un'età, i pazienti partono dai 20 anni fino agli 80. Le patologie più frequentemente coinvolte, le comorbidità più frequentemente coinvolte sono il diabete, i problemi cardiovascolari e i pazienti soprattutto post trattamento chirurgico per malattia della prostata e del colon retto. Quello che offriamo è un impianto di protesi peniena idraulica tricomponente con un accesso infrapubbico mini invasivo, un piccolo taglio una piccola incisione di appena 2 cm alla base del pene permette di impiantare il device protesico in circa 15 minuti con una ripresa estremamente soddisfacente della propria attività sessuale, pari a quella di un ventenne. I pazienti già a distanza di 15 giorni possono iniziare il loro percorso sessuale, possono riprendere la propria attività fisica a distanza di 45 giorni, mentre la normale attività quotidiana di vita già a 7-8 giorni. Il nostro approccio è un approccio estremamente sicuro, una tecnica chirurgica innovativa, siamo l'unico centro in Europa che effetto a questo tipo di procedura chirurgica che ha drasticamente azzerato le complicanze di questa chirurgia. Il rischio maggiore di questi interventi è, come in qualsiasi intervento di natura protesica, l'infezione del device protesico. Con il nostro approccio chirurgico la percentuale di rischio di avere un'infezione post-operatoria è prossima allo 0%.